Tomeo Quella sera, seduta sul letto in camicia da notte, la bambina raccontò a Valdo la giornata al villaggio. Tomeo mi ha chiesto la storia che le avevamo promesso, ricordi? Sui vuoti e le mancanze. Oggi però ho scoperto che molti hanno perduto qualcosa e non è sempre ciò che crediamo. Un tuono formidabile sconquassò la valle. Olga sparì sotto le coperte con Valdo. Poi però rispuntò fuori. Salute, sussurrò. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti